Finalmente si torna in scena, Paolo Totò dopo un anno e mezzo di assenza dalle gare tornerà a correre il prossimo 18 giugno, dunque sarà sulle strade insieme ai tanti ciclisti. È stata dura per un piccolo disguido, adesso però tutto è cambiato. Sì, adesso ritorno a correre il 18-19 giugno con l'MGKVS Nord Avega e il primo appuntamento è a Pordenone, come detto, il 18-19 e poi il 26 al campionato italiano Elite e adesso sì, ho avuto un piccolo problema, un anno e mezzo di stop, adesso ricominciamo piano piano. Prima corsa il 18 e speriamo andare bene. Bella opportunità che ti ha dato la formazione di Montappone. Sì, mi ha dato una grandissima opportunità e sai, ricorrere a metà anno non è mai facile trovare una squadra a stagione iniziata, quindi adesso darò il meglio di me per ringraziarli di questa opportunità. Come ti senti? Sei allenato? Tutto a posto? Sì, allenamenti tutto a posto, adesso ho avuto un piccolo problema due settimane fa con un alcistite a causa del freddo, quindi adesso però sto bene, mi sono ripreso e ho ricominciato ad allenarmi una settimana fa e adesso vediamo per i prossimi appuntamenti. È difficile parlare di obiettivi quando si rientra dopo un anno e mezzo, soprattutto a metà stagione, però qualcosa in mente hai? Ma certo, chiunque fosse stato nella mia situazione adesso ha degli obiettivi comunque di fare bene e cercare comunque di vincere. Possiamo considerarlo un punto d'arrivo la MGK Viz o un punto di partenza importante? No, soprattutto un punto di partenza importantissimo, poi anche per il futuro, comunque se mi vorranno io ci sarò e speriamo adesso non voglio parlare del futuro, parlo del presente. La MGK Viz mi ha dato questa opportunità e quindi cercherò di sfruttarla al meglio. Dopo 18 mesi dove eri un po' incupito e ti è tornato il sorriso? Certo, come ho detto, chiunque fosse stato nella mia situazione, io l'ho vissuta male come chiunque ama questo sport e che pratica questo sport, se fosse stato nella mia situazione non è stata facile. Non è stato facile, però adesso si ricomincia a pedalare, abbiamo detto dei propositi, abbiamo detto delle aspettative, abbiamo detto di un totò svoglioso, smanioso di fare bene. È chiaro che all'inizio bisogna fare un po' di attenzione perché gli altri hanno una preparazione e delle corse che hanno svolto che li mettono in primo piano. Sì, infatti questa preparazione fino ad adesso è andata bene, però comunque manca il ritmo, manca il ritmo delle gare che comunque dà qualcosa in più per la preparazione atletica. Certo, sarà difficile ricominciare, però penso le prime corse farò un po' fatica, poi si vedrà. Bocca al lupo! Crepe il lupo!